I manga sono tra i fumetti più amati dalle vecchie, ma soprattutto dalle nuove generazioni. Disegni fantastici che continuano ad affascinare tutto il mondo. Ciò che li rende così unici è la tecnica artistica del disegno, ma anche i tratti straordinari dei personaggi. I classici occhi grandi e luminosi e le folte e capigliature definiscono personaggi e figure immediatamente riconoscibili. La novità, nella vicina Palagiano esiste una scuola di manga, aperta a tutti, non c'è limite di età. Preparati dunque a varcare questo splendido mondo con la Sensei Maria Antonietta Scalera. Potrai apprendere tutte le tecniche di questo fantastico mondo. Questa scuola è indirizzata a tutti, ma proprio a tutti. Cosa aspetti? Un mondo manga ti aspetta. La mia passione nasce quando ero piccolissima, guardando già i cartoni animati giapponesi. Quindi io il pomeriggio tornavo da scuola e guardavo i cartoni animati giapponesi. Mi piaceva tantissimo osservarli e dopo, alla fine di qualsiasi puntata, continuare a disegnare. Quindi avevo sempre avuto questa passione per il disegno. Crescendo, dopo il liceo classico, dopo essermi diplomata, ho preso la triennale di fumetto. Quindi ho seguito un corso con le varie specializzazioni, con i vari workshop di insegnamento proprio per il manga. Una volta conclusa questa triennale di fumetto, ho deciso di aprire una scuola tutta mia, delle lezioni tutte mie dedicate ai ragazzi, quindi all'insegnamento del manga. Terminata la triennale professionale, quindi io sono illustratrice fumettista professionista, ho deciso di aprire un'associazione chiamata Laboratorio Espressivo Creativo Manga, dove insegno ai ragazzi la tecnica più amata che è il manga. Quindi loro possono iscriversi da Palagianello, Massafra, Grottaglie, da tutta la zona e seguire corsi online. In presenza, noi stiamo qui a Palagiano, abbiamo la sedia a Palagiano. I corsi sono il mercoledì, giovedì, il venerdì, il pomeriggio, mentre il sabato li facciamo la mattina. I ragazzi sono abituati a seguire i miei insegnamenti passo passo, quindi vengono guidati alla lavagna, seguendo delle linee che ovviamente sono inventate da me, per aiutare e per facilitare la realizzazione del personaggio, fino ad arrivare alla loro colorazione. Naturalmente potete tranquillamente visitare la mia pagina Facebook, Maria Antonietta Scalera, potete guardare tutte le foto, potete avere tutte le informazioni necessarie che vi servono, i corsi non hanno limite d'età, possono iscriversi i ragazzi dai 5 anni in poi, potete trovarmi anche su Instagram, guardarvi tutte le foto e tutto quello che noi facciamo durante le nostre lezioni.